Abbiamo due ospiti, una è Sara Porro, l'altro ospite di stasera è conosciuto come Alberico. Ovviamente abbiamo scelto un piatto che potesse soddisfare più persone contemporaneamente, quindi ovviamente faremo la pizza. Abbiamo cercato di farla in maniera un po' più divertente, la faremo con delle pere, dell'aricchio drevigiano e del taleggio. Mi farò fare il comino. Il comino! Ci sei Sara? Si lavora nell'ordine e nella pulizia. Sì. Olio d'oliva sotto. Quando si lavora? Si lavora d'oliva che va a mettere un po' di più. Sento un po' parodico. Adesso la pieghiamo. Vieni, vieni, facciamo così. Adesso la aggiustiamo, la rischia. con tutta la teglia. E l'altra. Continuiamo l'acqua in accesso. Eccoci. Poi, pere. Dove sono? Eccola qui. Pere. Abbiamo usato una pera leggermente amarognola. Questa qui è radicchio. Adesso mettiamo il taleggio, che appartiene alla fine dei formaggi morbidi. un filo d'oliva. E la mandiamo in cucina. E' bello. E' bello. E' bello. La scuola. E' bello.